Ciao amici bonsai, oggi voglio mostrare un nuovo pezzo, l'olea europea, chiamata anche un pezzo olive. Questa planta è nativa da le regioni costali dell'esterno mediterraneo, da Siria e da parte dell'azienda dell'Asia minor. L'olio ha stato farmiato per un molto lungo tempo per alimentazione, perché i frutti, chiamati olive, sono usati per l'extraczione di olio di olive, e, a un più lungo, per uso di direttamente in alimentazione. Anche gli antichi greci lo farirono, e hanno spiegato i pezzi all'esterno del Mediterraneo. L'olio di olive è un evergreen tree, la sua attività vegetativa è quasi continuata, con attenuazione nel Mediterraneo. L'olio del Mediterraneo. L'olio è fatto nei mesi di lato l'interno o lato lato, februari a marzo, quando la planta non ha ancora iniziato la prima fase del frutti. Come potete vedere, ci sono alcuni frutti ancora non riusciti. In generale, in un bonsai, è sempre meglio non lasciare frutti nei frutti, perché le fanno la planta perdere l'energia che la planta usa in sua crescita. frutti. Lo guardo perché mi piace vedere la planta durante il suo ciclo annuale, come se fosse veramente natura. Il tronco è cilindrico e spostato, con un grigio o un grigio di grigio, e un grigio e pesante. La planta ha crescita lentamente e è molto lunga. In condizioni climatici, il frutti può diventare milleniali e raggiungere un grigio di 15-20 metri. Il frutti non è ancora stato prunato, per permettere di crescere freely. In frutto, il frutto sarà prunato, ma sono ancora indecisivo, se creare un stile brunale o un stile informale. in frutto. Il frutto sarà necessario anche di ridurre la lunghezza dei frutti, per essere attenzionati di non cutere troppo, perché può causare la scoperta del sapo, come succede per le pinte. Per evitare questo, è sempre necessario di mantenere uno o meglio due pinte di lecce sul frutto. Nel mondo del Bonsai, l'Olea Europea è meno usato che l'Olea Europea Silvestris, anche chiamato di oliva. In effetti, l'ultimo ha lecce più piccole lecce e frutti, che l'ultimo. Nel mio figlio, ho anche alcuni olea Europea Silvestris, e vi mostrerò in altri video. Il video finisce qui. Grazie per la visione. Ascoltatevi al mio canale YouTube. Ciao, ciao! Ciao!